Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Come potete vedere dal mio sorriso ho un bellissimo annuncio da fare che sicuramente avrete già letto in altri canali YouTube, su Instagram probabilmente. Io l'ho scoperto direttamente dalla pagina Instagram di Tom Holland. Tom Holland ha annunciato con una fantastica citazione dal film The Wolf of Wall Street che Spider-Man resta nel Marvel Cinematic Universe. Spider-Man non se ne va. Spider-Man resta, farà un altro film nel Marvel Cinematic Universe. È già stata annunciata la data, pensate, il 16 giugno del 2021. Save the date. Sono molto felice, vi dico quello che ha detto Kevin Feige, cioè che è molto elettrizzato all'idea di poter lavorare ancora con Spider-Man, che Spider-Man è comunque un eroe che ha trasceso diverse generazioni di lettori, di fan dei film e quindi sono tutti elettrizzati ai Marvel Studios di poter lavorare ancora con questo personaggio ed è contento anche che sia l'unico personaggio, l'unico supereroe che ha anche il superpotere di far parte di due universi cinematografici, ovvero quello del Marvel Cinematic Universe, ma anche quello della Sony, il famoso Venomverse con i film di Venom e il film di Morbius che stanno creando. Quindi molto probabilmente, oltre a dirci che Spider-Man ritorna nel Marvel Cinematic Universe e avrà un film suo nel 2021, ci ha anche detto tra le righe che Spider-Man comunque sarà anche nei film della Sony, della Venomverse, quindi ragazzi ne vedremo delle belle. È un bellissimo giorno se si è fan di Spider-Man oggi. Hanno finalmente ricontrattato l'accordo che era saltato all'incirca un mese fa che appunto voleva... l'accordo Spider-Man-Disney aveva una clausola che al raggiungimento del miliardo in una pellicola di Spider-Man si sarebbe ricontrattato. Peccato che la Disney aveva cagato un pochino, un po' fuori dal vaso e la Sony gli ha detto no, col cazzo sai che c'è? Con la tua proposta così fuori luogo, noi Spider-Man ce lo teniamo e non ve lo prestiamo più. Grande furore, grande trambusto su internet, ma fortunatamente da persone civili e amanti dell'arte, anche se penso l'abbiano fatto ancora per i soldi, sono riusciti a riportare il nostro eroe ragnesco di nuovo in casa Marvel ed è molto bello perché comunque questo significa che potremmo vedere un altro film della trilogia della Marvel, potremmo vedere un altro film corale, quindi sempre nel Marvel Cinematic Universe, dove farà appunto ancora un cameo oltre a un film da solista e potremmo vedere uno Spider-Man crescere ulteriormente e diventare quello che secondo me potrebbe essere lo Spider-Man definitivo. Io non ho mai negato di aver odiato Spider-Man Homecoming, di aver odiato come hanno trasposto dai fumetti il personaggio che Tom Holland ha interpretato, ma l'hanno comunque migliorato in Spider-Man Far From Home e è comunque lo Spider-Man ufficiale, quindi io spero tantissimo che riescano a fare quello che voci di corridoio avevano detto in passato quando era ancora nel Marvel Cinematic Universe, ovvero che avrebbero fatto magari anche tre trilogie con Spider-Man, una al liceo, una all'università e una nell'età adulta, ma quanto cavolo sarebbe figo se riuscissero a trasporre questa fase dell'uomo ragno, perché comunque l'uomo ragno ha attraversato queste fasi ed è l'eroe più popolare dopo Superman e comunque è l'eroe con super problemi più popolare. Quindi sono molto felice di questa notizia, se incappate nel mio video per la prima volta vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche, di mettere un bel mi piace e di commentare se siete contenti anche voi di questa notizia, se preferivate che rimanesse con Sony ne parliamo un po' insieme, magari nei commenti io rispondo a tutti tanto per ora ho pochi commenti, quindi riesco a rispondere a tutti noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo sempre di amarvi 3000!